ok ragazzi ecco qua che ho portato anche i miei giochi qui che ho fin da quando ero piccolo e uno è Crash Bandicoot per la prima playstation ancora semplice ed è il primo patch tutto l'effetto Crash Bandicoot playstation ecco l'interno e questo era il primo gioco per la playstation 1 che è lì e poi un altro gioco però questo è per la playstation 2 non ho perso la cover è tutto è rimasto solo il dischetto e praticamente this is football 2003 anche questo anche questo platinum e vorrei vedere se dopo tanti anni funziona ancora per la playstation 2 che è lì vediamo un po' se dopo tanti anni questi giochi funzioneranno ancora e niente mettete vi piace, commentate, iscrivetevi al canale ma come sempre ci vediamo un prossimo video ciao a tutti belli, GoPro resta video ciao a tutti ciao a tutti